Sai che c'è? Sai che ti dico? Io oggi, il mio, l'ho fatto. Il mio appuntamento lavorativo l'ho espletato. La mia rognetta quotidiana dal dentista ci sono andato e non è reato. Sono leone 14 nella capitale, il sole è alto in cielo a scuattare, a comandare, comanda lui. E allora sai che ti dico? Ti dico che è Thank God it's Friday. Non credo che cambiare il mondo sto pomeriggio. Non credo che porterei a casa somme così significative che manca la pena stare a impazzire per darmi qualche impegno. E allora oggi penso a me. Egoismo come massima espressione d'altruismo. Perché se vuoi pensare al meglio anche agli altri, oltre che a te, ogni tanto devi pensare solo a te. E allora oggi penso a me. Cosa farò? Tendenzialmente una mazza. Secondo me sto male. E poi ho opzioni per pensare di fare quello come va. Oggi è il mondo di proleggio. Non l'avrei cambiato. I pendi non ne ho fissato. E allora secondo te sto male. Non è reato. Viva l'avete. Tutta l'avete. Un delitto. Un delitto. Non è un luogo in cui sono nato e cresciuto. Ma secondo te sto male. Stau. 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 Partita. Un po'.